Penny, Penny vi è qua! Un saluto da qualche tempo, siamo state un po' indaffarate, stiamo un po' indaffarate dalla Penny. Vieni Penny, vieni, stiamo preparando le varie pappe, abbiamo deciso di sorridere con tanti piccoli problemi e di darci una, come dire, vieni qua, vieni Penny, biscottino, vieni. Ecco qua, tutti i mobili reti dalla vecchia casa, con le lenzuola, le padelle per cucinare, le coperte, quello che rimane, delle brande, i detersivi, e chiaramente non ci manca la radio. Vero Penny, vuoi il biscottino? Vieni, amore, vieni, ricciolini, vieni. Adesso è il turno, l'oro interno. Spero che mi faccia piacere vederle, perché mia colpa ho un po'... Ecco qua, tutti i biscottini vari, c'è i tarallucci, e biancaneve in sette nani non ci mancano. Vieni, amore, vieni qua. Vieni, dai, che poi ci vuole tempo. Aspettate voi. Candy, vogliamo portare Candy a casa? La vogliamo portare davvero? Io penso che se vogliamo ci possiamo riuscire. La piccoletta sta soffrendo tanto, questo box. Posso? Con le sue renzuoline, vi raccomando, se avete delle renzuoline, le devo ancora pulire, eh? Cioè, non... Beh, vabbè, vengo da voi, dai. Tanto oramai sono come l'omino Michelin. Tutto silenzio oggi. Stanno accaldatissimi. Guidae, tesoro dolce. Aspetta. Hanno già avuto la pappa. Eh? Qua abbiamo già lavato, profumato. Tieni, amore mio. Tieni. Eh, ma non si vede. Tieni, ci c'è. Ecco qua. Le pennine. Ok. Ne vi salutiamo. Ciao.